questo video è offerto da domani proprio al cinema la prima si oggi siamo andati alla conferenza stampa del film noi l'abbiamo visto il film molto bello voi l'avete fatto e poi finalmente l'avete anche montato diciamo abbiamo visto montato e a voi è piaciuto e devo dire non me l'aspettavo ci erano consigliate non ci sono solo scelte di lavoro mi aspettavo quel film che è sempre molto ammazzato noi domani sera saremo alla prima certamente e invece è un film veramente bella e emozionante anche la storia da voi e allora in bocca al lupo spieghiamo che il film abbia successo che menca si sta bene qui stasera dovevo vedere un po' questo film che gira nell'aria ormai si sente bene qui stasera dovevo vedere un po' questo film che gira nell'aria e quindi è da vedere tramite la protezione poi i risultati vedremo dopo bravo bravo e quindi è stata veramente una bella esperienza a me è stata doppia perché da produttore attore è stata un po' dura come una cosa perché il conto è recitare appunto stare dietro le tre camere e come si dice è andato guardati parte due così ho dovuto fare perché era giusto che sia così quindi vi invito a vedere questo film e poi dopo se ci sono critiche venite e vi accettiamo grazie a tutti